YouTube è un posto bello, insieme è ancora più bello. Se tutti noi creator, tutti noi utenti, decidiamo di essere più attivi su YouTube, YouTube diventa molto meglio. Oggi cosa vogliamo fare? Oggi voglio fare una cosa un po' particolare. Io non mi sono mai cercato su YouTube, cioè se cerco qualcosa su di me, no, non, cioè io non ho mai cercato qualcosa riguardante il mio canale su YouTube. Perciò voglio vedere se effettivamente succede qualcosa. Mi sono cercato nel senso, cioè io entro spesso su mio canale per vedere la conta degli iscritti perché YouTube Studio non funziona bene, ma di fatto, cioè nel senso, non sono mai andato a cercare cose strane sul mio canale, non me ne è mai ferrato niente. Perciò guardiamo, finalmente, cosa c'è su di me. Vabbè, niente, il mio canale, 375 iscritti ragazzi, fateli salire mi raccomando. Poi, cosa è successo? Scopriamolo insieme. Poi, che battaglia sarà stata sera, no, queste cose qua. Tutto questo è tutta roba del mio canale. Correlato Tutto roba del mio canale, non c'è niente di... Correlato. Fammi fibra, stavo pensando a te. Non c'è neanche scritto, non c'è nessuna parte, non c'è nessuna parte, non c'è nessuna, ma... Mamut, Mamut, Soldi. Non so perché sia correlato. Cabriolet, la canzone di Salma, anche lì, non so quella sia correlato. La live di Enigma. Queste sono belle, le live di Enigma. Via queste, che hanno le belle live, quelle... Protoniche. Poi, l'unico è solo maestro con questa roba. Mi prego, fatemi vedere, sono orgoglioso. Non escono tipo canzoni di Dendry. Ovviamente, non so, cioè, l'unico è solo è una cosa che può essere tipo molto, molto intesa. Se cercate l'unico è solo, ovviamente, siccome l'unico è solo è anche un'espressione, oltre che il nome del mio canale, è ovvio che non ci sia, che non trovate soltanto l'unico è solo. Poi, unico, parodia cupido, sfida e basso. Vabbè, dai, c'è l'unico, no. Ok. Poi, l'unico modo di vincere del solo contro duo, Stepney. Chi sa che magari Stepney mi faccia anche fare le visual, per sbaglio. Stepney, dammi la mano a fare le visual, bastardo. Tiziano Ferro, valore assoluto. Dove sta scritto l'unico e solo, o l'unico o solo, o l'unico e solo? Dove è scritto? Non è neanche scritto, guarda. Al mio unico e solo migliore amico. Ecco a voi, l'unico e solo, vinto Elvis. Potete scrivere Elvis? O poi il grandissimo Elvis, o poi il fotonico Elvis. No, l'unico e il solo finto Elvis. Il volo, grande amore. Unico e solo fit cover di Martirio MC. Sponsolizziamo sto stronzo, dai, sponsorizziamolo. Non va la connessione, noi andiamo a sponsorizziamo, mi sa. Martirio MC. Martirio MC. C'è solo un modo per non vederlo morto. Prega, tutti un branco di pecore ubbidienti. Ci hanno tolto la gioia e dolore. Gli altri sentimenti ho provato a fare il pelo nel cuore. Averlo di pietra e non provare amore. Ci sono riuscito e ora sto meglio. Due amici di conto che mi tengono sveglio. E sceglierò le persone giuste. Sperando di non dover combattere in qualche altra Royal Rumble. Ma non preoccuparti, io non mollo. Quanto ha sforato io scendo in questa Royal Rumble. Vabbè ragazzi. Questi sono rapper emergenti. Martirio MC. Complimenti per comunque una bella canzone. YouTube Pupu. L'unico e solo, logicamente, Andrea. L'unico e solo ballo dei nabbi. L'unico e solo gruppo. L'unico e solo intermodale è Lucano. Ma... Manca una cosa che dovrebbe essere in teoria correlata. E questo... Tempo fa collaborai con un YouTuber. Ah! Ho tolto il canale sto qua. Cioè avevo uscito da tutto se tolto dalle balle. No. Una volta che faccio una collaborazione ho visto che non ne ho mai fatte. Nel frattempo ragazzi andatevi a vedere. Nel frattempo ragazzi andatevi a vedere questo video mi raccomando. Che... Cioè... Una bella figa. All'inizio. Posso essere presa per pedofilo in questo caso. Ma va bene. Va bene. Tutto questo per dire che in fin dei conti. Su di me non c'è una mazza su... Su YouTube. Nel senso c'è sono solo i miei video. E la live ancora di Enigmam. Poi per il resto basta. Ma fate più altro. Perciò... Io comunque sono disponibilissimo. Nel caso a fare collaborazioni e robe varie. Se mi iscrivete c'ho tutti i miei... I miei social scritti in descrizione. Quindi... Tu state buona. E che durante questo video qui va... Di tutte le cose che non vanno qua in una robita. Zitto. Qua c'ho Instagram. Qua c'ho l'email. E forse forse... Aspettiamo un attimo. Entriamo sul mio canale. Negli ultimi video. In teoria dovrebbe essere c'è anche... I gruppi. Tatto Instagram. Telegram. Telegram. C'è tutto raga. Mi bella. Oh bella. Primo come sempre. Anzi metto. O cuoricino mettiamo. Anche qua. Cuoricino in diretta. Cuoricino in diretta. E... E niente. Sato raga. La cosa bella di questo... Di... Di questa sigla. È che non è la prima. È bellissima ma non è la prima. Perché la mia prima è stata... Esatto. La mia prima sigla è stata questa. L'unico è solo... Iscriviti al canale sotto. Perché cercavo gli iscritti. Come anche adesso. Ma che invece se vi iscritti mi fa schifo eh. Credo che questo video vi piaccia. Se il video vi è piaciuto come se vi è lasciato un commento e mi piace. Iscrivetevi al canale. Se siete nuovi e se non siete nuovi ovviamente. Andate... A seguirmi nei vari social. E tutto. Siate attivi. Perché io vi aspetto. Non ho mai mangiato nessuno. E noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao. Ciao. Grazie.